Ciao a tutti, mi chiamo Paini Dimitri, sono residente in strada Nevetta 10, i miei genitori abitano al 33. Io volevo fare sapere a tutti che è da lunedì sera che siamo abbandonati a noi stessi. È arrivato l'esercito giovedì sera alle 7, è da giovedì sera che ci sono tre camion dell'esercito italiano che girano, fanno fermare i volontari a lavorare e loro stanno seduti sui camion a fotografare e a ridere in faccia alla gente che raccoglie la terra e dicono vi state divertendo come sulla neve. Questo dopo chi ha le palle di pubblicarlo, di farlo girare, mi farebbe una grossa cortesia, perché noi è 5 giorni che siamo così e l'esercito non ha ancora fatto niente, hanno le divise pulite e gli occhiali da sole in faccia. Con questo saluto tutti e vado a lavorare. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.